Fulvio D'Adderio è il terzo allenatore della stagione della Vastese, il tecnico molisano di San Martino in Pensilis succede a Massimo Silva cui è stata fatale la sconfitta di Piedimonte Matese per 3-0 contro la formazione campana. Una debacle troppo sanguinosa è che ha costretto la società aragonese al secondo cambio stagionale perché prima dell'avvio di questo campionato la Vastese, che aveva scelto Massimo Agovino, non aveva neppure iniziato col tecnico per richiamare in panchina proprio Silva che aveva fatto bene la stagione passata, almeno fino alla sospensione dei tornei. In questa invece il ritorno aveva comportato anche degli aggiustamenti in corso d'opera durante i turni di campionato. Tanti giocatori arrivati per dare sostanza al progetto, il tutto favorito anche dallo stop novembrino che ha consentito di rivoluzionare alcuni reparti. All'addio di Gianluca Pollace hanno fatto da contraltare gli arrivi in attacco di Martiniello, Leandro Martinez e da ultimo Rossi, a centrocampo la fisicità di Meola in difesa la duttilità di Nicolas Lenoci. Con ogni probabilità però è stato proprio il periodo di stop forzato, in cui la Vastese ha dovuto allenarsi, giocare e recuperare due partite, a far capire che l'avventura di Massimo Silva poteva terminare. I pareggi con l'Agnonese, ma soprattutto quello di Aprilia, seppur in inferiorità numerica, hanno bloccato la rincorsa di una formazione che era partita già col meno uno in graduatoria e che alla seconda giornata aveva potuto beneficiare dell'errore del Giulianova, che aveva schierato Balducci squalificato senza accorgersene. Questo aveva consentito di trasformare il pareggio sul campo in vittoria per 3-0 a tavolino. Ecco perché gli otto punti, che sarebbero nove in realtà, ma frutto del successo col Pineto, di quello proprio col Giulianova, e dei pareggi, nei recuperi e con Rieti, sono un bottino troppo misero per una formazione che, seppur non doveva lottare per i primissimi posti, comunque non era stata costruita per un torneo di sofferenza. Ed ecco allora il nuovo cambio. Arriva Fulvio D'Adderio, 60 anni, vice allenatore di Roberto Muzzi in Serie B a Dempoli ed una lunga carriera tra C e D, che ha formalizzato qualche ora fa l'intesa con il club. In Abruzzo allenato a Giulianova, tra le altre esperienze ci sono quelle con San Benedettese, Venezia, Spezia, Foggia, Catanzaro, Torres, Fermana, Monopoli e Manfredonie. A lui spetterà il compito di risollevare una vastese che, al netto della gara in meno da recuperare, col Castelfidardo alla ripresa sarà attesa da un ciclo terribile. In rapida sequenza i Biancorossi affronteranno il campo basso all'Aragona, il notaresco al Savini e il Castelnuovo ancora tra le muramiche. Un trittico terribile con le prime della classifica che deve rilanciare le ambizioni di una squadra in cerca di stabilità.